Dimentica la bambina in auto, morta per il forte caldo. Infatti la temperatura in auto ha raggiunto i 45 gradi. Ciao a tutti e benvenuti nel canale Porcospino Curioso. Non dimenticare di iscriverti al nostro canale e mettere mi piace ai video per supportarci. Rimani fino all'ultimo, perché abbiamo una domanda per te. In una drammatica vicenda avvenuta a New York, una donna di 54 anni, nonna della piccola vittima di appena un anno, si è trovata involontariamente a dimenticare la sua adorabile nipotina sul sedile posteriore dell'auto prima di recarsi al lavoro. Purtroppo, a causa delle temperature elevate che hanno trasformato l'interno dell'auto in un ambiente incandescente, la bambina è rimasta intrappolata, subendo un colpo di calore fatale. La nonna, nel suo tragico errore, ha trascurato di portare la bimba all'asilo mentre si dirigeva al suo ufficio, e questo ha portato a conseguenze tragiche. Circa otto ore dopo, la donna è andata a prendere la bimba all'asilo situato in Redwood Lane a Smithetown, ma si è resa conto di averla lasciata nella sua auto. La piccola è stata immediatamente portata in ospedale al Santa Caterina di Siena Medical Center, ma purtroppo è stata dichiarata morta. La polizia sta conducendo un'indagine per comprendere quanto successo, ma al momento non sono state formulate alcune accuse. Incredibilmente, questa non è stata la prima volta in cui una tragedia ha colpito la famiglia sotto la custodia della nonna. Purtroppo, l'anno scorso, una terribile situazione si era già verificata. Nel dicembre del 2021, il fratellino di Uriel, chiamato Ezra, aveva perso la vita in modo drammatico. Era annegato in uno stagno mentre si trovava sotto la supervisione della nonna Tracy, la stessa donna coinvolta nel recente evento a New York. Quel tragico episodio aveva sconvolto l'intera comunità di Ardee, in Florida, e ora, il 22 novembre dello scorso anno, si è ripetuto un'altra terribile vicenda, con la piccola Uriel che è scomparsa anch'essa sotto la custodia della sua nonna. Queste tragedie ripetute hanno gettato un'ombra di dolore e sgomento sulla famiglia e sulla comunità locale, lasciando molti a interrogarsi sulla sicurezza e la supervisione dei bambini affidati alla nonna. Sono eventi strazianti che mettono in evidenza l'importanza di adottare misure adeguate per la protezione e il benessere dei bambini, garantendo un'adeguata vigilanza e responsabilità. La comunità è unita nel cordoglio per la perdita di questi piccoli angeli e spera che simili tragedie possano essere prevenute in futuro. E tu cosa ne pensi di tutta questa vicenda? Come giudichi questa nonna? Ti ringraziamo per aver guardato questo video e se ti è piaciuto ti invitiamo a lasciare un bel mi piace e ad iscriverti al nostro canale. Grazie. Grazie.